Uomini e profeti, leggere la Bibbia. Israele nella storia, con Enzo Bianchi. Grazie a tutti. Man mano che andremo avanti con questa lettura, voglio dire in particolare che la cosa che ci ha fatto molto piacere è che molti di voi ci hanno scritto o detto, bene, forse adesso troverò il coraggio di cominciare a leggere la Bibbia e speriamo che sia un aiuto per tutti noi, insomma. Ecco, abbiamo pensato di proporvi ogni volta a incipit della puntata un ascolto musicale, a sottolineare un po' l'elaborazione cui nel tempo la Bibbia ha dato luogo e oggi cominciamo con una riscrittura del Salmo 137, quello di cui parleremo più avanti, un momento importante nella storia di Israele e del suo esilio, Al-Naharot Bavel, nella tradizione della comunità sefardita di Gerusalemme, nell'interpretazione di Joel Cohen. Al-Naharot Bavel, nella tradizione della comunità sefardita di Gerusalemme, nell'interno di Gesù, Ecco, allora avete sentito ho sentito questo canto di una tradizione della comunità sefardita di Gerusalemme che segna appunto un momento importante nella storia di Israele oggi ci aspetto un compito non semplice ma intanto saluto subito Enzo Bianchi buongiorno a lei Enzo Bianchi buongiorno a tutti che ci accompagnerà ancora in questa introduzione come ha già fatto domenica scorsa insieme ad altri in questa introduzione alla lettura della Bibbia oggi ci aspetta appunto un compito difficile che è quello di sintetizzare o meglio di periodizzare circa due millenni di storia ebraica però Enzo Bianchi prima ancora di addentrarci nella storia molti ci chiedono di quali strumenti devono dotarsi per affrontare la lettura della Bibbia quale Bibbia, quali commenti che cosa possiamo dire? ma innanzitutto dobbiamo confessare che la situazione in Italia in merito alla possibilità di avere a disposizione diverse traduzioni della Bibbia è una situazione infelice a differenza di altri paesi ancora trent'anni fa noi avevamo a disposizione cinque, sei versioni, traduzioni della Bibbia in italiano e poi invece ultimamente c'è come una forma di monopolio di unica traduzione della Bibbia che si è imposta che è quella ufficiale della Chiesa Cattolica italiana e che indubbiamente è una traduzione che è il suo valore ma è un po' l'unica non ci sono possibilità di confronti con altre traduzioni io penso sovente in Francia dove attualmente ci sono undici traduzioni della Bibbia in francese undici in Germania ce ne sono sette noi in Italia praticamente di traduzioni recenti soltanto una in compenso però ci sono delle Bibbie che pur avendo sempre la traduzione cosiddetta italica o della Cei ma abbiamo la Bibbia TOB che è un commento fatto ai singoli versetti una serie di note che sono fatte da cattolici, protestanti e ortodossi di conseguenza certamente ha un certo pregio questa Bibbia perché mostra alcuni elementi di interpretazione ecumenica comune poi abbiamo la Bibbia cosiddetta di Gerusalemme che anche quella è una Bibbia molto importante le cui note sono fatte da questa prestigiosa scuola biblica di Gerusalemme sono tutti esegeti cattolici ma certamente sono note molto puntuali e poi abbiamo altre Bibbie le quali magari portano delle note per rendere il testo più semplice più quotidiano più familiare quello non va tanto bene però perché certe volte si semplifica troppo sì, io penso che per affrontare la Bibbia con una certa serietà occorrerebbe riferirsi soprattutto alla TOB la traduzione ecumenica della Bibbia si chiama Bibbia TOB oppure alla Bibbia di Gerusalemme quelli direi che sono due strumenti effettivamente magari se uno invece ha delle altre Bibbie in casa andare a confrontare e cercare un po' di capire ecco ma invece per quanto riguarda i commenti ciascuna di queste Bibbie ha dei commenti introduttivi ai libri che per lo più sono molto buoni ma forse non so se dare anche il suggerimento di seguire libro per libro cercarsi un commento adatto quello che si preferisce secondo me sì perché i commenti sono potremmo dire infiniti in questo momento sì in Italia noi abbondiamo di commenti ai singoli libri biblici anche perché in Italia c'è una grande produzione dell'editoria religiosa di commentari cattolici protestanti soprattutto di esegeti di americani tedeschi inglesi di conseguenza noi in Italia siamo tra i più privilegiati per la quantità di commenti e di libri che possiamo usare ci si può anche un po' smarrire ci si può smarrire perché non tutti hanno la stessa qualità alcuni certamente inseguono anche a volte delle ipotesi che non sono direi ipotesi accettate sono un po' ardite possiamo suggerire per chi è un po' alle prime armi di insomma sceglierne uno un po' così anche come viene e di leggerlo anche tenendosi delle riserve di interpretazione questo si bisogna imparare proprio che comunque di fronte al testo biblico le interpretazioni sono molte la Bibbia è il libro dalle interpretazioni e dalle letture infinite questa direi è anche la sua forza e la sua contemporaneità che noi constatiamo ogni volta che apriamo un libro siamo di fronte davvero all'interpretazione infinita dunque il commento infinito il messaggio infinito e questo noi dobbiamo abituarci cercare quelli che sono dei commenti adatti alla nostra capacità intellettuale agli strumenti che noi possediamo perché ci sono alcuni di raffinata esegesi che soprattutto sono filologici quindi si basano sull'ebraico sul greco altri invece che sono già capaci di offrire un commento un messaggio per ogni brano biblico e dunque direi hanno la possibilità di essere per il grande pubblico ecco bisogna certamente addentrarsi bisogna un po' cercare cercare e non spaventarsi e farsi aiutare io credo che ci sono molti che hanno delle capacità oggi di leggere la Bibbia almeno nelle varie comunità cristiane italiane e possono aiutare uno condurlo man mano affinché ci sia una lettura sapiente una lettura feconda e soprattutto proficua ecco questa è anche un po' diciamo la nostra intenzione non di dare una lettura così completa e assoluta della Bibbia ma di fornire pian piano man mano dei suggerimenti questo abbiamo detto domenica scorsa e questo continueremo a fare diciamo nel corso di questa piccola avventura e naturalmente ogni tanto segnaleremo delle cose un dizionario un atlante un commento ecco ma dunque Enzo Bianchi la storia allora la Bibbia non è un documento storico ma attraverso molti passi della Bibbia possiamo ricostruire la storia di Israele almeno a grandi linee però ecco come distinguere ciò che è storico e ciò che non lo è e quali altri fonti abbiamo per ricostruire la storia di Israele beh innanzitutto bisognerebbe dire che nonostante la parola storia come la diciamo noi non compaia nella Bibbia noi dobbiamo ammettere che proprio la Bibbia è l'inventrice della storia se c'è stata un'invenzione della storia lo si deve proprio a Israele perché mentre all'interno delle altre sapienze la storia è ciclica è un ritorno Israele sente proprio la storia la quale parte da un punto preciso e va verso uno scopo un telos un punto finale certamente la Bibbia non è un libro che sia di storia nel senso che noi intendiamo ma ci sono dei documenti storici all'interno della Bibbia ma che sono mescolati con altri testi altri documenti questo ci fa dire che noi dobbiamo quando leggiamo la Bibbia imparare un po' a distinguere la parola può essere molto astrusa ma distinguere i generi letterari cosa significa? che io di fronte a un libro devo percepire innanzitutto se un testo è un testo poetico se questo testo è un testo sapienziale se questo testo vuole narrare una storia edificante o se invece vuole proprio mettermi di fronte a degli eventi storici precisi che hanno avuto un luogo e una data precisa ma poi nella Bibbia ci sono anche teologie magari ci sono già interpretazioni di fatti storici ci sono ah beh direi quasi sempre quasi sempre cioè da una lettura intenzionata cioè noi dobbiamo pensare che nella Bibbia abbiamo questo processo che è molto semplice ma mi piace che gli ascoltatori possano impossessarsi in qualche modo per leggere la Bibbia c'è sempre nella Bibbia la testimonianza di un evento storico di cui si fa la lettura è il primo passo poi però questo evento viene riletto nella fede e dunque se ne fa l'interpretazione infine questo evento lo si celebra nella fede tutti insieme e allora noi abbiamo un altro livello che direi è la la teologia che è la liturgia vorrei fare un esempio se così è possibile se noi andiamo nel libro dell'Esodo noi leggiamo al capitolo 12 che i figli di Israele uscirono dall'Egitto in numero di circa 600.000 senza contare le donne e i bambini e che una tanta gente di altre etnie uscirono con loro ecco noi qui abbiamo un evento storico forse la cifra di 600.000 se vogliamo è un po' celebrativa ma se c'era qualcuno che era testimone avrebbe detto che ci fu un evento in cui gli israeliti uscirono dall'Egitto loro e anche altre etnie è l'evento della storia ma subito dopo noi leggiamo il Signore fece uscire dall'Egitto i figli di Israele ecco allora non è più solo l'evento storico se il Signore li ha fatti uscire siamo all'interpretazione dell'evento storico siamo ormai a livello di fede e un po' più avanti noi vediamo Mosè o sua sorella che radunano tutto il popolo fanno una celebrazione dicono cantiamo al Signore veramente glorioso ci ha liberati dall'Egitto cavallo e cavaliere gettato nel mare e ancora un altro livello in cui la fede diventa fede di un popolo e la si celebra ecco la Bibbia noi abbiamo dunque l'evento storico l'interpretazione dell'evento storico dunque la storia di salvezza e poi la celebrazione della fede ecco però se noi volessimo andare a ritroso cioè dalla celebrazione nella fede all'interpretazione all'evento storico abbiamo altre fonti invece che ci dicono gli scarni eventi storici qui probabilmente non concordano cioè concordano solo in parte con quello che è narrato sì ma credo che abbiamo dei testi in cui ci sono degli eventi storici ma certamente è stato di grande aiuto alla lettura della Bibbia non solo la lettura del testo ma l'archeologia ecco l'archeologia noi dobbiamo tener presente è stata una scienza che ha modificato tantissimo la nostra lettura della Bibbia perché attraverso l'archeologia noi riusciamo a vedere la verità di una data riusciamo a verificare se l'evento c'è veramente stato e eventualmente come l'evento poi è stato tramandato celebrato allora noi abbiamo delle possibilità attraverso l'archeologia di comprendere e di dare una solidità a quello che c'è già nella vita di dare un'intelaiatura un'intelaiatura e poi attenzione abbiamo dei testi diciamo paralleli della sapienza delle civiltà delle culture vicine l'Egitto Babilonia la Siria quindi noi mettendo in confronto tutto questo riusciamo abbastanza ad avere una filigrana della storia di Israele una traccia della storia di Israele dunque sul tema della storia e di Dio nella storia torneremo magari più avanti e certamente molte altre volte perché è evidente che è una questione complessa cioè noi che ci riteniamo figli del disincanto come possiamo pensare che Dio intervenga nella nostra storia quali disegni lo indurrebbero a lasciare che guerre terremoti sventure si abbattano sugli innocenti però questa è una domanda che le vorrei porre un po' più avanti adesso vorrei cominciare invece con una prima periodizzazione ecco quale potrebbe essere quale potremmo tracciare insomma siamo nel nel 1800 prima della nostra era più o meno noi potremmo dire che dopo le prime pagine della Bibbia i primi undici capitoli di preistoria i cui eventi sono degli eventi sedimentati nella memoria dell'umanità sono dei miti attraverso i quali si dicono le verità originarie e perenni degli uomini a un certo punto noi abbiamo lo snodarsi l'apparire della storia con Abramo al capitolo 12 ecco da quel momento noi possiamo dire si cerca di seguire la storia che è sempre storia di salvezza noi dobbiamo collocare le vicende di Abramo di questi grandi padri patriarchi grandi padri padri iniziali possiamo collocare Abramo Isacco Giacobbe in un periodo che può andare tra il 1800 e il 1300 circa 1250 in sostanza sono più secoli e noi possiamo anche pensare che questi personaggi non siano il padre Abramo suo figlio Isacco e l'altro suo figlio suo nipote Giacobbe ma che sono dei grandi padri dei clan delle tribù di Israele di cui c'era memoria di cui oralmente si trasmettevano le gesta si trasmettevano gli eroismi si trasmetteva la fede soprattutto perché questi personaggi Abramo Isacco e Giacobbe trasmettevano soprattutto che loro avevano un dio il dio di Abramo di Isacco di Giacobbe quindi non dobbiamo impressionarci se eventualmente arrivassero dei dati storici a dirci che effettivamente Isacco non era figlio di Abramo e così via ma capire queste figure come effettivamente come diceva lei come dei miti che però hanno una loro concretezza avevano certamente una concretezza poi sono stati dei nuclei attorno a cui si sono sedimentate leggende noi dobbiamo pensare che siamo in un'epoca di cultura orale in cui la sapienza si trasmette di generazione in generazione raccontando dei padri ecco noi dobbiamo pensare come l'identità di queste tribù veniva dato dall'aver avuto il grande padre Abramo che veniva da Ur dei Caldei per gli altri era il grande padre Isacco il quale aveva insomma in qualche misura percepito che ormai il dio di Abramo il suo dio non volevano sacrifici umani volevano invece dei sacrifici fatti con gli animali ma non volevano i sacrifici umani che erano invece in quel momento praticati nelle culture circostanti quindi pian piano si forma un'idea di popolo un'idea di dio e poi pensiamo Giacobbe si ricordava forse più recente aveva avuto dodici figli lui era stato nella terra promessa ma poi era sceso in Egitto perché come tutti i poveri vanno a cercare pane dove c'è pane e poi però quell'Egitto in cui avevano trovato pane era diventata una casa di schiavitù e per lunghi anni di oppressione di angaria e tutto questo dei patriarchi in situazioni di nomadismo un nomadismo che va dall'attuale Iraq Eufrate il fiume Eufrate il Tigri e che arrivava fino all'Egitto nella mezzaluna fertile quindi noi abbrighiamo in questo periodo tante tradizioni orali che riguardano i grandi padri di Israele allora leggiamo così anche per esemplificare dopo naturalmente tutti questi passi nel corso del tempo li rileggeremo li analizzeremo analiticamente ma il momento dell'alleanza al capitolo 17 della Genesi e tra l'altro non dicevo per scherzare l'altra volta che sarebbe bene che gli ascoltatori ci seguissero con la Bibbia in mano e magari cercheremo di darvi puntata per puntata i passi che leggeremo in quella successiva in modo che ci possiate seguire effettivamente il libro 17 della Genesi in cui si salda l'alleanza tra il Signore e Abramo quando Abramo ebbe 99 anni il Signore gli apparve e gli disse io sono Dio l'Onnipotente cammina davanti a me e si integro porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto molto numeroso subito Abramo si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui quanto a me ecco la mia alleanza è con te diventerai padre di una moltitudine di nazioni non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abramo perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò e ti renderò molto molto fecondo ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione come alleanza perenne per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te la terra dove sei forestiero tutta la terra di Canaan la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te sarò il loro Dio disse Dio ad Abramo da parte tua devi osservare la mia alleanza tu e la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione questa è la mia alleanza che dovete osservare alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te sia circonciso tra voi ogni maschio vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne ecco allora appunto questa idea di Dio nell'antico Israele cioè un Dio che interviene appunto nella carne addirittura del popolo e la coscienza di un popolo che man mano si sviluppa no? sì noi abbiamo con questo episodio di Abramo e l'apparizione di Dio ad Abramo noi abbiamo una sintesi un po' di tutta la sua vicenda in realtà nel libro della Genesi dal capitolo 12 Dio parla più volte ad Abramo però qui c'è la sintesi insomma Dio chiede ad Abramo di entrare in alleanza con lui di fare un patto Abramo riconoscerà come unico Dio il Dio che gli è apparso seguirà la volontà di questo Dio e Dio allora gli fa la promessa di una discendenza numerosa non dimentichiamo che Abramo a quel momento è ormai vecchio ha una moglie sterile non ha nessun figlio eppure lui ha già peregrinato ormai per anni e anni dietro a quella promessa di Dio che l'aveva chiamato fuori da Ur dei Caldei per dargli una terra e dargli una discendenza numerosa Dio qui gli rinnova questa promessa e addirittura Dio gli dice questo patto questa alleanza che io faccio con te deve essere qualcosa che porta un segno indelebile e un segno indelebile nella carne è certamente tagliare il prepuzio al membro dei maschi è una parte della carne che non cresce mai è un tessuto che una volta tagliato porta un segno indelebile e questo diventa un segno di un'alleanza noi siamo un po' scandalizzati da una richiesta di questo tipo ma dobbiamo soprattutto guardare non tanto a come l'uomo di allora cercava di imprimere nel suo corpo qualcosa di indelebile da ricordare sempre attenzione da ricordare non a caso proprio con quella carne attraverso la quale c'è la trasmissione della vita di generazione in generazione certo il significato è profondo e non abbiamo il tempo qui di addentrarci ma lo faremo poi più avanti lo faremo ma certamente la novità qual è tra Abramo e Dio innanzitutto Abramo conosce un Dio che parla se noi pensiamo anche nel mondo greco gli dèi non parlavano degli dèi noi sapevamo le vicende tra di loro gli amori le guerre ma non parlavano mentre invece direi lo straordinario del Dio di Israele è un Dio che parla e parla all'uomo e sceglie l'uomo come partner e fa alleanza con l'uomo Abramo ecco la sua fede inizia in questa avventura sente che c'è qualcuno cui può dare del tu questo qualcuno è Dio e questo Dio ha una voce nel suo cuore che è più forte della stessa voce che Abramo aveva dentro di sé dunque una seconda tappa la prima ci ha detto dal 1800 850 circa prima dell'era volgare al 1200 una seconda tappa dal 1200 al 1000 quando c'è la richiesta di un re di un regno e poi al 598 quando ci sarà la deportazione a Babilonia ecco qui noi siamo di fronte già dei dati molto più sicuri molto più precisi perché innanzitutto dicevamo questo popolo di Israele che ricordava i padri è sceso in Egitto a cercare pane durante la carestia però gli egiziani l'hanno sfruttato sono diventati degli stranieri residenti in questo paese d'Egitto oppressi dagli egiziani oppressi dal faraone si dedicavano ai lavori soprattutto forzati per le grandi costruzioni siamo nel momento che l'Egitto fa le grandi costruzioni che tutti conosciamo ebbene loro stanno in schiavitù e noi sappiamo con precisione che tra il 1250 e il 1200 di queste etnie tra cui anche i figli di Israele hanno tentato la fuga per uscire da questa prepotenza oppressione del faraone altre volte devono aver fatto anche delle battaglie delle lotte ci sono stati anche degli atti violenti insomma sono stati tutti i tentativi di esodo esodo fuga esodo guerra esodo magari contrattato con il faraone di tutto questo noi abbiamo una serie di echi nel libro dell'esodo ma certamente noi abbiamo anche qui un dato archeologico fondamentale c'è una stele che è stata trovata dell'imperatore Menerta il quale scrive sopra Israele è stato distrutto il suo seme non c'è più ed è del 1225 avanti Cristo quindi significa che a quel momento Israele non è più in Egitto ma certamente l'Egitto testimonia che non è più un problema un pericolo per lui quindi noi dobbiamo dire imparare a dire sono stati tanti gli esodi non c'è stato un solo esodo ma in diverse maniere in diversi anni dei gruppi di ebrei riuscirono a liberarsi dalla schiavitù e poi noi abbiamo dal Sinai dove il popolo si forma con Mosè questi anni che la Bibbia dice 40 anni ma che sono stati anni in cui grazie a Mosè grazie a Daronne si è formato un popolo e si è formato un popolo in alleanza a Dio si è cominciata la conquista della cosiddetta terra promessa scacciando i popoli autoctoni che erano presenti e possiamo dire che questa conquista finisce attorno al mille quando ormai le diverse tribù di Israele sono ormai tutte sul territorio che sarà Israele noi lo chiamiamo Palestina terra di Canaan ma sono ormai tutti presenti lungo la valle del Giordano del Mar Morto del lago di Tiberiade sono ormai stanziati residenti a quel punto ormai Israele può sentirsi davvero un popolo e comincia a essere sedentario non solo nomade non solo di pastori ma anche di agricoltori e anche capaci di una vita commerciale e viene fuori la richiesta di avere un re come tutti gli altri popoli e siamo attorno al mille questo segna una tappa fondamentale anche nell'identità di popolo di Israele documentato molto bene da un capitolo del primo libro di Samuele il capitolo 8 quando appunto Samuele racconta al Signore che il popolo chiede un re quando Samuele fu vecchio stabilì i giudici di Israele i suoi figli il primo genito si chiamava Joele il secondo genito Abia erano giudici a Bersabea i figli di lui però non camminavano sulle sue orme perché deviavano dietro il guadagno accettavano regali e stravolgevano il diritto si radunarono allora tutti gli anziani di Israele e vennero da Samuele a Rama gli dissero tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice come avviene per tutti i popoli agli occhi di Samuele la proposta dispiacque perché avevano detto dacci un re che sia nostro giudice perciò Samuele pregò il Signore il Signore disse a Samuele ascolta la voce del popolo qualunque cosa ti dicano perché non hanno rigettato te ma hanno rigettato me perché io non regni più su di loro come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi abbandonando me per seguire altri dei così stanno facendo anche a te ascolta pure la loro richiesta però ammoniscili chiaramente e annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re disse questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli li farà correre davanti al suo cocchio li farà capi di migliaia e capi di cinquantine li costringerà ad arare i suoi campi mietere le sue messi e a prestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri prenderà anche le vostre figlie per far le sue profumiere e cuoche e fornaie prenderà pure i vostri campi le vostre vigne i vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri allora Enzo Bianchi qui c'è una come dire un passaggio molto significativo nella storia di Israele ma significativo anche nella storia di tutti i popoli la richiesta di un re cioè di essere governati da qualcuno qual è il significato storico e teologico ma indubbiamente questo testo che abbiamo ascoltato segna un passaggio tra una situazione nomadica e una sedentaria tra una situazione in cui ogni tribù aveva un capo un giudice il quale esercitava il potere soprattutto nei momenti di difficoltà di crisi quando si doveva difendersi dai nemici qui invece si vuole un re secondo l'ideologia dominante di quel tempo perché siamo significativamente intorno al mille avanti Cristo e ovunque ci sono dei re ovunque ci sono degli stati con dei re Israele il popolo di Israele chiede un re e in questo testo meraviglioso che abbiamo ascoltato che è uno dei testi più antiregali di tutta la storia dell'umanità è un vero testo contro l'ideologia del potere ebbene all'interno di questo testo noi vediamo che il popolo in qualche misura rifiuta che Dio sia il suo re quindi rifiuta la libertà rifiuta la libertà vuole in sostanza il grande capo vuole l'uomo della provvidenza e allora Dio era tristato e fa una bella analisi è un'analisi straordinaria di che cosa significa avere un capo che ti domina io pregherei gli lettori di rileggerlo alcune volte per vedere tutta questa dinamica che c'è nel testo il re piglierà le vostre figlie i vostri figli per fare i suoi schiavi cioè qui c'è direi la testimonianza di come noi uomini non vogliamo essere liberi la libertà ci fa paura la responsabilità ci fa paura e questa pagina è triste ma è molto contemporanea ecco naturalmente poi nella storia di Israele ci sono stati anche grandi re da Saul grande tragico a David e così via ma diciamo che di lì comincia una progressiva decadenza divisioni interne lotte e così via finché si arriva appunto alla terza tappa che è quella dell'invasione prima degli Assiri nel regno del nord poi dei mobilonesi che arrivano a prendere Gerusalemme e questo nel 598 e qui si dà inizio al grande esilio che è l'altra grande figura della storia di Israele cioè l'esodo da un lato l'esilio dall'altro Bianchi sì noi dobbiamo pensare proprio che nell'anno 1000 circa Davide è stato un torre è il primo grande re di Israele Saul colui che l'aveva preceduto è finito pazzo è stata una vicenda tragica Davide è davvero il re ideale ma dopo di lui ci sarà Salomone il quale introdurrà l'idolatria è vero che sarà un re che darà pace che estenderà i confini porterà il benessere ma col benessere l'idolatria l'allontanamento dalla fede il sorgere dell'ingiustizia sociale dei poveri e da quel momento dal 1000 da Davide Salomone fino al 598 ci sarà tutta una serie di re e sono attenzione sono 400 anni ma re che saranno quasi tutti degli empi e in questa storia di salvezza quando arriva la Shoah la prima nel 722 quando gli assiri arrivano e smembrano le cribù del nord distruggono la capitale del nord portano i primi deportati in assiria noi vediamo che i profeti dicono questo è per l'infedeltà e per l'ingiustizia in cui il popolo viveva e poi c'è la grande catastrofe per eccellenza 598 i babilonesi che erano sorti e che avevano significativamente abbattuto l'impero assiro ma ecco in campagne di guerra verso l'occidente arrivano anche a Gerusalemme la circondano la distruggono è la grande distruzione è la Shoah è la catastrofe che ancora oggi gli ebrei piangono come il più grande lutto della loro storia forse solo reso maggiore dall'ultima Shoah avvenuta sotto l'impero nazista ma gli ebrei sono portati a Babilonia deportati e vanno a Babilonia sul Tigri sulle Eufrate vanno a collocarsi là e tutta la Giudea resta una terra desolata inizia l'esilio resteranno in esilio presso degli stranieri e con qui abbiamo bisogno di un documento di che cosa ha significato questo esilio e il Salmo 137 che è stato molto anche celebrato per la sua grande bellezza e anche che ci darà poi l'idea che intorno a questo esilio si costruisce anche un'altra identità di Israele lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion ai salici di quella terra appendemmo le nostre perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato allegre canzoni i nostri oppressori cantateci canti di Sion come cantare i canti del Signore in terra straniera se mi dimentico di te Gerusalemme si dimentichi di me la mia destra mi si attacchi la se lascio cadere il tuo ricordo se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia ricordati Signore dei figli di Edom che nel giorno di Gerusalemme dicevano spogliatela spogliatela fino alle sue fondamenta Enzo Bianchi allora abbiamo visto queste tre grandi tappe diciamo della storia di Israele la formazione del popolo intorno ad Abramo poi l'Esodo poi la richiesta del regno poi queste divisioni interne che hanno facilitato naturalmente l'invasione di Assiri babilonesi la deportazione però va anche detto che in questo esilio la coscienza di Israele si solidifica no là dove non c'è più il tempio beh si costruisce un tempio dello spirito esattamente una parola la possiamo dire esattamente è significativo dove manca il tempio emerge la scrittura emerge la Bibbia è molto importante questo si potrebbe quasi dire che ogni volta che la Bibbia appare il tempio passa in seconda ordine e quando c'è il tempio sembra quasi che il documento la scrittura non ci sia ecco la prossima volta ripartiremo proprio da da qua invece da questa scrittura che si forma che si fonda noi siamo in debito con gli ascoltatori per l'altra puntata in cui avevamo detto che avremmo commentato il passo di Levinas ma lo faremo in una puntata dedicata alle interpretazioni io la ringrazio molto Enzo Bianchi e le auguro una buona giornata grazie tante buona domenica a tutti e ricordo a chi ci ascolta che naturalmente saremo qui da sabato prossimo sempre alle 9.30 d'ora in poi ricordo il nostro sito www.uomineprofeti.rai.it dove potrete riascoltare queste puntate ma naturalmente anche le puntate del sabato e per esempio ieri abbiamo dedicato il nostro ascolto a Vassili Grossman e al grande tema della libertà e della identità delle sopraffazioni e delle ingiustizie sotto qualunque volto grazie da Gabriella Caramore e al prossimo sabato e al prossimo sabato e al prossimo sabato